Allora ragazzi, mi raccomando, mi raccomando, stasera vi aspettiamo alle 9, io e Carlo Neux. Vi aspettiamo che ci sarà la seconda puntata di gara di Fantasvia, quindi saranno importanti anche le persone a casa che dovranno votare. Allora, stasera chi ci sarà? Come in gara ci saranno Danny, Giuseppe e Alfabeto. Io spero che ci possiate essere, insomma, questi qua dovrebbero essere i concorrenti che dovrebbero venire stasera. In più, devono esserci anche Riccardo e Baldo che sono stati meno votati della scorsa volta e quindi loro dovranno fare una sfida per rimanere in gara. Ok, anche stavolta ci saranno i voti in live e i voti fuori live. Comunque dai, io ci tenevo a dirvelo, mi raccomando, dai, chi può passare, anche perché sono importanti gli spettatori che vedano le esibizioni, le performance del Fantasvia, per dare i voti e quindi vi aspetto stasera alle 9. Comunque circa le 6 e mezza ci sarà anche una live su Stambul Guys. E niente, adesso vi dico che io sto scappando, che vado a trovare mio padre, che l'ho già detto un po' diverse volte sul canale, che ha fatto questa operazione di protesi al ginocchio, quindi adesso sta facendo la riabilitazione, e quindi lo andiamo a trovare in pausa pranzo e per quello che mancano le live del pausa pranzo in questo periodo qua. Va bene, ciao a tutti, mi raccomando Fantasvia e mi raccomando andate a trovare anche sempre Carlo Neux, che vedete qua in questa piccola immagine. E niente, un salutone! Ciao da Svideo! Oh ma ragazzi, sapete che sul mio canale siamo arrivati a cinque, ci sono già più di cinquemila video? Micamale! Ragazzi, cioè veramente, qua bisognerebbe festeggiare con l'acqua maialina! Ciao da Svideo, ciao ciao ciao!